. Aida Espica rivede Geppi a Napoli, lei chiarisce qual è il loro attuale rapporto Aida Espica e Giuseppe, Geppi, lama immortalati di nuovo insieme. . E un ritorno di fiamma o solo amicizia dopo la fine della storia d'amore, ufficializzata da lei appena terminata la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Aida Espica, Geppi? Siamo rimasti amici. . Il settimanale Chi pubblica le foto della coppia in un hotel di Napoli dove i due si sono salutati, la showgirl ha incontrato anche i genitori dell'imprenditore. . Di qui a parlare di nuovo fidanzamento, però, ce ne corre. E lei stessa a chiarire tutto, siamo rimasti amici, non è che quando finisce una storia bisogna per forza cancellare il bello che c'è stato. . Geppi e io oggi abbiamo un rapporto maturo di chi si è voluto bene. . . In passato ho imparato sulla mia pelle che fare la guerra e non parlarsi più dopo una storia d'amore è un errore. . Se ci sono le basi e se le persone sono mature, il rapporto di amicizia si può salvare. . Ma la conclusione è senza appello, la storia tra di noi è finita. Ora sono con il vero uomo della mia vita, mio figlio Aaron, avuto dalla relazione con il calciatore Matteo Ferrari . . Ho tanta voglia di godermi il mio bambino e riprendere in mano la mia vita partendo però non dall'amore, ma dal lavoro. . Aida Espica in vacanza a Miam. . La venezuelana ha trascorso le vacanze natalizie a Miam con il figlio e con gli amici ritrovati Raffaella Zardo e il suo ex Gianluca Vatti. . Nica parentesi è stata qualche giorno prima a Napoli per alcuni impegni promozionali dopo il GF VIP. . Lì che è stato anche l'incontro cordiale con Geppi e la sua famiglia con cui ha creato e mantenuto un buon rapporto. . La storia con Geppi è durata, solo, quattro mesi. . E non avrà un seguito. . Salvo clamorosi colpi di scena. .